La polizia scientifica è tornata sul luogo del delitto in via della Robbia ad Arezzo. Lo ha fatto in mattinata dopo che lunedì aveva constatato il decesso di Maria Aparecida Venasio de Sousa, la brasiliana sessantenne da anni residente in città. Secondo indiscrezioni la donna si prostituiva. Le indagini hanno acceso dunque un faro sul mondo che ruota attorno alle luci rosse delle lucciole. Sarebbe stato il compagno della donna dare l'allarme, non sentendola al telefono per ore. Ha dato l'allarme tramite i vicini di casa. L'uomo ieri si trovava nel Grossetano con un'altra persona, allontanando così da lui ogni sospetto e poi rientrato in serata ad Arezzo e stato sentito in questura. Ignote le cause della morte che potrebbero essere attribuite ad asfissia, la donna era infatti legata al letto, di sicuro tramite il collo con un laccio, ma nel primo esame esterno del cadavere è stato riscontrato anche un trauma alla testa. Quest'ultimo particolare escluderebbe tuttavia l'ipotesi del gioco erotico. Allora al momento possiamo soltanto dire che certamente non si tratta di un gesto suicidiario, si tratta quindi di una morte violenta. Le cause della morte sono ancora in corso di accertamento e allo Stato. Questo è, tutti gli scenari sono aperti. Nuovo lungo sopralluogo dopo quello notturno con cui si è passato al setaccio, alla luce del sole, l'appartamento e il giardino esterno. Uomini ed attrezzature specifiche a caccia di possibili impronte ed indizi che possano orientare le indagini per ora rimaste nell'ombra.